Buongiorno, mi chiamo Mirko Frapporti, sono il sindaco del Comune di Fumane. Desidero invitare tutti i cittadini e le cittadine a recarsi nei prossimi giorni presso il Monoso Municipio per firmare la petizione a sostegno della legge d'iniziativa popolare che mira a introdurre la materia di educazione alla cittadinanza nelle scuole. La petizione è promossa dal Comune di Firenze e dall'Anci, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Con la vostra firma possiamo dare un contributo concreto in che i nostri ragazzi e le nostre ragazze possano essere adeguatamente formati a diventare cittadini e cittadine consapevoli e responsabili come ci chiede la nostra Costituzione. Firmate, è importante, abbiamo tempo fino al 9 dicembre. Grazie.